Osvaldo Gabetta, risicoltore a Valeggio, siamo in Lomellina. L'Oxadia Zon può essere utilizzato indifferentemente con tutte le tipologie di riso? L'Oxadia Zon è un prodotto che va, secondo me, usato con tutte le tipologie di riso. Va messo principalmente su tutte le risicolture italiane, perché è un prodotto fondamentale e di base per la risicoltura. Ma se un domani non fosse più autorizzato, lei con quale prodotto potrebbe sostituirlo? Nel momento, sul mercato, secondo me, non esiste nessun prodotto che possa sostituire Osvaldo Gabetta, assolutamente. Quindi un domani ci saranno dei grossi problemi se non verrà più usato questo prodotto.